Sì ma qua dov'è escire? Ecco, ok, ok. Ecco Davide Alla... ah no, non si chiama Davide. Ma sì, e continua a chiamare tutti Davide. È scherzissimo. Sei? Ok. Ti lascio? Pesati. Oh, mi fa male pure tenere sulle braccia così. Potevi portare un piedistallo, non so. Occhio eh, vieni a sinistra che c'è il mauto. Occhio di via. Occhio di via, a sinistra. Qua chi c'è in quella? Io volevo parlare. Ma in quale? Io questa parte qua. Sì, vabbè, con la magnesite io passo sui sette, sull'ottavo grado, eh, cioè, sono buoni tutti con la magnesite. A me ne fa mezzo metro la terra. Allora qua c'è in cosa? Vai di lì. Sì, per lì qua. Ok. Di chi c'è in cosa? C'è un po' sotto sul tempo. E cosa tu lo fai? Fai quella? No, io non le faccio. No, a spada non le faccio. No, ma non è difficilissima questa. No, perché la vediamo così che invece... No, io che... No, io che... Ho aiuto una scorsa, un nervo. Ma te sei basato sul tetto? Sì, sopra il tetto. Oh, mi devo appoggiare, scusa. No, mi stanno morendo le braccia. Mi mostro molto male, ma ci tornerò già. E' una... Infatti ho fatto una, due di tre. No, mi hai fatto una, due di tre. No, mi hai fatto una. No, mi sono fatto la mia. Vedi, quello è tutto. Sopra il tetto. E poi ci roma. Oh, si vedeva. Il colore. Non vai maniglione. Non va bene. Vieni portarti sotto il più possibile. Non vedi. porti dopo ti risulti due bravo la destra ricongiungi il bravissimo a massimo faccio il sito la destra o la destra? più esterna o la destra? no se mi vengono in direzione la scuola faccio qua faccio anche di me lo stavamo usando ma in infatti Vittorio non ha in quel modo è con tutti e due allora anche importante è provare pessimo saltare pessimo lasciamo lì aspetta 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 no quando vuoi si mi sto pensando dovevi fare dovevi fare a scoreggia abbiamo visto delle piante muoversi che schifo stanno per cadere stavo testando ma vuoi scendere? grazie 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 grazie